Non dimenticare le mie parole, bimba tu non sai cos'è l'amore. Buongiorno e grazie di esserci Antonio Di Vito è il direttore generale di Puglia Sviluppo S.P.A., la società in house della regione Puglia, che gestisce i pacchetti di incentivazioni per le imprese, cioè le risorse al sostegno del sistema produttivo, le risorse che servono a garantire, a promuovere investimenti, competitività, occupazione. Ieri Ravieste, nell'ambito di un convegno organizzato da Confindustria sul turismo, sulle nuove frontiere del turismo, ha dato i numeri, i numeri inquietanti, ha detto agli operatori turistici della capitale delle vacanze guardate che ci sono soldi, c'è una misura punto 2, quella che serve a riqualificare, a rimodernare le strutture ricettive, che utilizzate poco e male, perché appena il 13% del budget compressivo è stato utilizzato e appena quel 13% riguarda richieste pervenute da questa parte di territorio. Ancora c'è un'altra misura, il PIA, i programmi integrati di agevolazione, ancora altre centinaia di milioni di risorse a disposizione, contributi che vanno dal 25 al 45% per le imprese, imprese piccole, medie e grandi, insomma tanti soldini, e non è pervenuta alcuna richiesta. Che succede? Ok, è vero, noi siamo distratti, pigri, abbiamo professionisti scadenti, è vero, la comunicazione su questi temi è sempre abbastanza fragilina, esile, ma è anche vero che ci sono problemi. E sono problemi che emergono casualmente, come ieri, problemi posti dalla platea degli operatori turistici, quando dicono, ma signori noi abbiamo qui a Bieste oltre il 90% dell'impresa indebitata, contratto mutuo, fatto con risorse proprie per rimodernare, per riqualificare i villaggi turistici, gli alberghi. Come facciamo? O rinegoziamo con la Puglia, o come dire, o dal governo regionale e dalla tecnostruttura regionale arrivano indicazioni chiare su come abbattere gli interessi, e magari possiamo ragionare su un ulteriore indebitamento, oppure facciamo altro, oppure quelle risorse possono essere spostate su altri capitoli, magari andare a potenziare anche il budget, quello del famoso fantomatico patto per la Puglia. E De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo S.P.A., conveniva e prendeva, come dire, e aveva una consapevolezza diversa della natura dei problemi concreti posti ieri a Bieste. E perché accade tutto casualmente? Non dovrebbe essere la politica a portare questi temi, queste preoccupazioni, queste sollecitazioni, di un pezzo di economia vera, che è quella appunto di Vieste e del Gargano, e dell'area nord del Gargano. La politica non c'è. La politica, come diceva Fabio Porreca ieri, è irrilevante, non conta, non pesa, è assente. E il bravo sindaco di Vieste, ragazzo di poco più di 40 anni, imprenditore, uno che materialmente apre il comune alle 8 del mattino, uno che potrebbe fare impresa e basta perché ricco di suo, e che invece ha deciso di abbracciarsi questa croce, comincia a stancarsi, a non farcela più, a ritenere totalmente inutili quei tavoli istituzionali, i luoghi appunto in cui la politica dovrebbe ragionare, e costruire una visione più generale, più di sviluppo di questo territorio, comincia a stancarsi. Il dramma è che se rischiamo di perdere, come dire, i migliori evidentemente, e se non si riparte dai territori, non c'è evidentemente futuro e speranza per questo pezzo di mezzogiorno. Grazie, alla prossima. Non dimenticare le mie parole